Ninfeo A-S-M-R Carissimi ninfetti miei, come state? Spero stiate benissimo quest'oggi Torna Il foglio nero par colorato sul quale andrò a grattare un disegno Mi è stato richiesto in uno degli ultimi video Qua ho già preparato il foglio sul quale andremo a fare il disegno E a dire il vero ho preso spunto da un disegno che ho visto su Google Quindi probabilmente farà qualcosa di molto simile Si tratta di fiori, albero, farfalle Tutti dei soggetti intrecciati tra loro E quindi spero appunto, avendo l'ho visto, di saperlo riprodurre Bene, quindi io direi che possiamo partire subito E speriamo di fare qualcosa di artisticamente simpatico Allora io partirei appunto dall'albero Facciamo il tronco Parto magari dalle linee del contorno E poi Qui io non ho davanti il disegno Ma me lo ricordo molto bene C'era questo tronco Con tutti, 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 tutti Dei chiricori Qui facciamo le radici magari un po' più ampie Mi spiace che come l'altra volta Non si sente molto il suono Dello scratching Qua facciamo una bella spirale E magari la rendiamo un po' più spessa Mentre va verso l'interno Poi il tronco Facciamolo salire di qua Un po' più stretto Facciamo di un'altra spirale Un po' più grande magari Che bello i colori che vengono fuori E poi facciamo un'altra spirale Un po' più grande magari Che bello i colori che vengono fuori Questo disegno può andare anche A sentimento Per coloriamo l'interno del tronco Che magari Faccio bello dire anche un po' più largo Come se fossero proprio Delle radici Ok? Poi qua lo facciamo E qui possiamo cominciare a fare il ramo Con i fiori Ripeto Ho preso spunto Per questo Disegno Ora pure ho troppo Non so se riesco a ritrovare Da dove ho preso spunto Ma nel caso ve lo metto giù in infobox E qua comincio a colorare il tronco Purtroppo Non so se si senta bene questo suono Col pennellino Porto via gli eccessi Che va pazzesco Cioè I colori che vengono fuori Sono veramente Troppo troppo bellini Comunque qua facciamo il ramo E facciamo partire Un bel fiore Con i petali grandi E poi facciamo un bel disegno Nel fiore Così Mi piace che vada a coprire buona parte Dello spazio E facciamo l'ultimo petalo Ovviamente è un fiore Sproporzionato Ma Disegno astratto Allora vediamo Un po' Facciamo Ecco qua E ora facciamo altri Inserti all'interno dei petali Le andiamo un po' più spesse Queste linee La cosa brutta è che una volta grattato Non si può più tornare indietro Quindi Se si sbaglia qualcosa Si deve Trovare un modo di correggere In modo alternativo Ma è veramente bellissimo E trovo anche molto rilassante Il fatto di Scoprire mano a mano I colori che vengono fuori Perché Anche se si prende spunto Per un soggetto Qualsiasi disegno Sarà sempre 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 Diverso Ecco qua E io farei anche un ulteriore Inserto Per creare ancora più Gioco all'interno Del fiore In questo modo Bene Le linee possono essere pulite leggermente Però voglio fare prima tutto Tutto lo scheletro E poi andarlo a rifinire con calma Ad esempio Anche qua possiamo aggiungere Qualche fiorellino Magari Più piccolino Possiamo fare dei fiorellini Più Basici E possiamo farci Una decorazione Dentro Così E anche Anche qui E un fiorellino Troppo carino Il fatto che Sia venuto azzurro Cioè La scelta dei colori È troppo Troppo bella Allora Andiamo a riempire Ulteriormente Facciamo salire Un po' Il trucco Giriamolo un po' Facciamolo un po' Nodoso Giriamolo in su Così E facciamoci Un'altra Spirale Qua Poi potete anche Andare un po' Sentimento Cioè Non è ovviamente Un tutorial Non sono Assolutamente Una Artista O Possiamo farlo salire Un po' E O possiamo fare Un ramo Anche Più grande Tipo Facciamo Una Spirale Un po' Più grande E poi Qui Facciamo Salire Altri Rami In questo Modo Possiamo Andare a riempire Con altri Fiorellini Come ci piace Hop È come se fosse Un albero Tutto Stilizzato Possiamo Fare Un altro Fiore È un po' Diverso Possiamo Fare L'interno Così E qua Dei fiori Anche Piccolini Solo Petali Giusto Per Cambiare Un po' Eccolo Eccolo Perché Perché a volte Non capisco Se siano Dei rimasugli Neri O se È una parte Che non Ho colorato Ok O facciamo Un fiore Un po' Più grande Tipo Così Così Anche se Anche se Sborda Fa niente Tanto Non deve essere Per forza Tutto Sempre visibile E anche se Va verso Il ramo Fa nulla Possiamo Possiamo fare Così E fare Una corolla Un po' Diversa Possiamo Fare La corolla Magari Ops Qui Ho fatto Un piccolo Errore Magari Lo posso Correggere In questo Modo No Non mi piace Quindi Rendiamo Tutto Colorato Non importa Tanto Qua ci facciamo Magari Un altro Tipo Di Disegno Per questo Fiore Come vedete Se si Sbaglia Si può Sempre Correggere Il tiro Andando A creare Qualcosa Di Diverso Al quale Non avevamo Pensato All'inizio E' comunque Un fiore Simpatico A questo punto Possiamo Fare Un altro Ramo Che parte Da qua Ma qui Un po' Spirale Mettiamo Un po' A sentimento Ma possiamo Farci Un fiorellino Più piccolo Per riempire Lo spazio Ecco qua E anche qua Più piccolo Anche colorato Eccolo qui Bene Anche qui Questo Facciamo colorato Così si differenzia Da questo qui A questo punto Facciamo altri fiori Qui Facciamo di modo Un po' Più grande Come volevo Farlo Primo Ovvero Con Il centro Vuoto In questo modo Dal quale partono I petali colorati E poi i petali A loro volta Vuoti Così Dopo faccio i petali colorati La parte colorata Dei petali Stando attenta A non sbordare Mi piace troppo Vedere i colori Che si creano Sì qua Allunghiamolo un po' Questo fucsia Poi è stupendo Qui lo collego A questo ramo Da qua Ok Qui facciamoci Un fiorellino Qua Per riempire Non mi piace Quando ci sono Spazi vuoti Anche qua Mi piace Che sia bello Pieno Il disegno E il primo albero Direi che Va anche Essere Finito A meno che Mi sembra Che anche Lo spunto Che avevo preso Qua avesse Un altro ramo Che proseguiva Con un altro fiore E in effetti Potremmo Farlo anche noi Facciamo lo stesso fiore Qui Un po' più piccolino Quindi Ah ci ho fatto anche Un petalo in meno Vabbè Facciamo così E Qua al vuoto Che particolare Questo colore Fucsia scuro Tipo Magenta Scusate Se prendo Dentro Al pennellino Proprio Tipo Verite Lo sto proprio Facendo Insieme A voi Ok E quindi Coloriamo Anche Dell'interno Ovviamente Voi potete Prendere Degli spunti Ma poi Adattarli Al vostro stile Alla vostra Sensibilità Aggiungere Ciò che volete Qua Ad esempio Ci metto Un altro Fiorellino Piccolo Capire Come riempire Gli spazi E potrebbe Stare anche Libero E qua Ci faccio Un'altra Bella Spirale Ok Adesso Cerchiamo Di renderla Carina Armonica Con questo ramo Un po' più spesso E anche qui Ti faccio Una specie Di pancia Ok Mi piace Anche l'idea Di fare Le linee Per bene Ok Ovviamente Questi sono Disegni Che tutti 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 Chiunque Può fare Perché sono Veramente Semplici Allora Qua potrei fare Una piccola Farfallina Piccolo 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 Vediamo Come posso Fare Così 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 Poi Ma sì Vediamo Fare Casino E magari Qua facciamo Un disegno Sulle Sue ali Da tenere Libero E colorare Il resto Qui Mi sto Allontanando Dallo spunto Sto Andando Un po' Di testa Mia Ok Questo video Sono un po' Silenzioso Spero che Privileggiate Che privilegerete Prediligerete Non so neanche parlare La componente Del visual Trigger Piuttosto che Il mio Whispering Che va A fasi Alterne Ops Ho macchiato Un po' Il foglio Vabbè No Ho tolto Un pezzo E allora Ah Credo che sia Colpa del braccialetto E allora Qui bisogna Per forza Fare qualcosa Allora Vediamo Un po' Facciamo Delle erbe Che partono Da qui E vanno Qui Facciamo Tipo Anche questi Credo di averli visti Da qualche parte Perché ho guardato Veramente Tantissimi Spunti Per questi Disegni Che mi sono Rimasti In mente Poi non so Visto che qui Devo correggere Quest'errore Facciamone Un cuo Che penso Così Facciamo Così Sempre Sello stesso Stile Di questi Fiori Particolari Qui Facciamo Un altro Magari Che parte Da qua Che si incrociano Così Scusate Sono un po' Concentrate Tra l'altro C'è qualche Rumore Che devo Assicurarmi Di tagliare In fase Di editing Vabbè Non è bellissimo Ma per correggere L'errore Che era stato Fatto Direi che Può andare Io qua Voglio fare Una giga Farfalla E la faccio Un po' Storta Dall'altro Lato Rispetto A questa Qui Quindi Facciamo Quella Che parte Da qui Ovviamente Ripeto Non è niente In proporzione Perché Allora Vediamo Un po' Facciamo Il corpo Un po' Più Affusolato Così Un po' Ciccione Forse Ho esagerato Vabbè Facciamo Così Facciamo Le antennine E ora Le ali Pianifichiamole Per bene Allora Posso fare Quelle farfalle Così Quindi Vediamo Un po' E poi Qua L'ala Sì dai Poi facciamo Le decorazioni Facciamo La stessa cosa Per l'altra parte Quindi No Mi è partita Storta Dopo andrò A incigionire L'altra Devo farla partire Da sotto Mannaggia 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 Ho sbagliato Vabbè Magari Nell'insieme Non si beve Che brutto Savorfalle Adesso Vediamo Se riusciamo A recuperarla In qualche modo Cercando Di Correggere I I bordi Di qua Lo faccio Più verso l'interno Di lì Più verso l'esterno Dovrei Riuscire a pareggiarli Ecco qua Diciamo che Non è proprio Come usare La gomma Però Anche qui Ci sono Degli Scamotage Che permettono Di Aggiustare Un lavoro Non proprio Per petto Vedi Qua Lo faccio Più verso l'interno No Più verso l'esterno Sì In qualche modo Qui Facciamo In modo Che sempre Che continui Qua E qua Lo facciamo Più verso l'interno Vabbè Magari Nel complesso Poi Non si capisce Che Stavano a farla Qua Un po' Un po' Così Adesso Facciamo Le decorazioni Sulle ali Sulle ali Vado un po' A sentimento E qua Facciamo La decorazione Così Poi Facciamo Così Si è un po' Spontata Questa Finta Matita La userò Ancora Per un po' Poi Mi sa che Passerò Un'altra Se vorrete appunto Riprodurlo Come sempre Consiglio Sono belli i colori Quindi Belle decorazioni Per queste cose Andate un po' A fantasia A sentimento L'importante È Far emergere I colori Come in questo caso Lasciando però Degli spazi Anche neri Per creare Appunto La Non so L'alternanza Appunto Di contorni E E Decori Sto dicendo Cavolate Ma Perdonatemi Non è facile Restare concentrati E Dire anche Qualcosa Di sensato Faccio la stessa cosa Dall'altra parte Devo dire Che con questi Decori Con questi Inserti Si vede Un po' Meno L'orrore Della forma Di questa Farfalla Che non è proprio Uscita Benissimo Benissimo Ecco Come Facciamo Facciamo Un po' Così Bene Tutto sommato Nell'insieme Ci può stare Un po' Stordignacola Ma ci può stare Direi che qua Ci facciamo Un altro Fiorellino Per riempire Ok E qui E qui E forse Vabbè qua Un altro Fiorellino Magari Di quelli Solo Petali E qui Un'altra Farfalla Magari La faccio Guarda Questa Con più Decori Non so Girata Come Magari Girata Così Ancora Un po' Di più Ancora Un po' Più Girata Tipo La faccio Ancora Così Ancora Più Girata Intanto Perdonate Minoso La telecamera A che punto Si sia Interrotta Penso Non molto Tempo Fa Perché Avevo Controllato Da qualche Minuto Che Funzionasse Ma Semplicemente Ho terminato La farfalla E questo Fiore Brutto Cioè Gli ultimi Due elementi Sono i più brutti Che mi hanno un po' Rovinato Il quadro Ma Vabbè L'importante È L'insieme Qua faccio Un altro Fiorellino Quando faccio Questo genere Di quadretti Mi piace Che tutto L'insieme Sia Molto Molto Pieno Mi piace Che sia Proprio Riempito Per bene E questo È Il risultato Finale Di quest'oggi Non so Non so Se riesco A zoomarvelo Di più Perché Sto utilizzando La fotocamera Con l'obiettivo Fisso Il fuoco Manuale Però insomma Penso si veda Comunque Per bene Io spero Davvero Che il video Di oggi Vi sia piaciuto Continuo a vedere Le cose Da migliorare Se volete Questi fogli Si trovano Tranquillamente Su Amazon E vi lascio Giù nell'info box Il link Affiliato Dove potete Appunto Riparirli E comprarli E io vi auguro Vi auguro Vi auguro Una splendida 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 Notte Se siete Arrivati Qui Scrivete Farfalle Nei commenti Hashtag Farfalle Vi mando Un bacio gigante E adesso Vado assolutamente A pranzo Perché sono Le due Del pomeriggio E sto morendo di fame Buonanotte 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 Buonanotte